bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono l'underjack the new players oggi siamo in un video su rainbow six come vedete è una libera perché non gioco esattamente a questo anche da parecchio perché ora mi sto infognando su mba quindi comunque ho voluto portarlo e che un gioco che mi piace tanto ci ho giocato tanto quindi spero vi piace una partita semplice iniziamo in attacco noi andiamo a cazzo dove vedete io non ho neanche gli operatori speciali quindi gg ci prendiamo twitch ci prendiamo che ci si quindi ci vediamo appena inizia il round allora eccoci raga siamo con twitch allora qui non mi ricordo ci siano telecamere questa zona qui invece si eccola allora stanno giù o stanno su su si vengono da giù che significa che stanno su su stanno su su ok quindi attenzione allo spawn kill e che dio ce la mandi buona 3 2 1 è iniziato il round inizia dall'effettiva partita attenzione allo rilevata all'esterno subito ci vuol provare zio queste cose possono succedere solo in esterno ok subito era un pazzo che gli piaceva giocare che vi devo dire allora qui innanzitutto vediamo ma play qui se ok noi ce l'andiamo qui preso ok easy easy è andato bene è andato bene è andato bene sta partita davvero questo cazzo stava a fare questo ma è stupido ok tocca difendere ora io a difendere non sono tanto bravo perché non so stare al mio posto quindi ci prendiamo capcan e speriamo che funzionino le trappole che questo ho sfortunato pure che non ne becco mai uno con la trappola quindi ci vediamo appena inizia il round ok raga siamo in cucina quindi andrei a mettere subito subito una qui abbiamo tolto che vuoi rompere le parti uno qui uno qui altri tre non lo so tre che scena oh e mettimela quattro e l'ultima la mettiamo ok ok restiamoci belli chiusi dentro tipo qui e 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 Oh, God. Nah. Vieni Ok Fatto Assist riuscito Ne è rimasto un altro che non so dov'è Ma è stupido questo Allora Tu punta là Io punto qua Da dove cazzo viene questo? No What the fuck Due raffiche in pieno Come ho fatto? Ok raga Ultimo round Lo viviamo in attacco Quindi spero La vinciamo Perché altrimenti poi si allunga anche troppo il video Quindi poi l'editing Viene eccessivo Vai bravi Uccidetevi frati voi Oh merda Fa un cubo Ciuccia Ok Ok Allora vediamo se fanno di nuovo I forti Oh wow Vengo 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 Ah ma Si sono i geni che stanno dentro Le libere Devo dici Vengo 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 Ah dai si è forte Cioè ma vedete Le teste di cazzo Ma ti possa morire veramente qualcuno Ti possa morire Tanto non fa il primo Ok raga abbiamo vinto Se non fosse stato per quel soldier Avremmo fatto i primi Però Ci va bene così Raga spero che il video vi sia piaciuto E' stata una partita molto breve Perché poi sono capitati in un team Diciamo Anche buono infatti stavo in un team Con un clan Di HV che vi saluto Quindi per altri video così Lasciate tanti like Iscrivetevi Commentate E ci vediamo al prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti on the train